Questo video è in collaborazione con Keyforge Italia e con Fantasiastore.it dove se inserirete il codice ARCONT del Crogiolo19 riceverete il 5% di sconto. Bella gente, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo tornati con un nuovo unboxing. Andiamo a vedere che cosa contiene. Come sempre troviamo il biglietto dove ci sarà il codice sconto che andremo ad inserire. Per il prossimo acquisto, una bolla di trasporto. Sono andato a prendere 4 deckbox, 3 uguali, uno di colore verde e due di colore bianco. Queste sono della Ultra Pro. E uno della Dragon Shield. Questo qua, a differenza di questi, li utilizzerò in maniera diversa e ve lo farò vedere in un prossimo video. Ed infine sono andato a prendere un set di 50 dadi che può sempre essere utile e vi farò vedere sempre in un prossimo video come li impiegherò. Bella gente, per oggi è tutto. Forgiate come se non ci fosse un domani. Ciao! 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 Ciao!